12 febbraio 2020 Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente Salmo 91, versetto 1 Condizione e benedizione Le parole del versetto di oggi evidenziano la benedizione che Dio offre a coloro che confidano in Lui. Essa non è automatica, ma sempre preceduta da condizioni chiare e precise. Per godere della comunione con Dio e di conseguenza della Sua protezione è necessario conoscerlo personalmente e affidarsi totalmente a Lui. Dio si rivela in maniera chiara, inconfondibile e completa attraverso la Bibbia e per mezzo di essa l'uomo ha il privilegio di conoscere l'Altissimo e di ricevere le indicazioni complete perché possa arrendersi a Lui. Chi si rivolge a Dio attraverso l'unico Mediatore, Gesù, sperimenta il Suo amore. La fiducia di chi conosce personalmente il Signore ci incoraggia a sperare sempre in Lui e a realizzare calma e serenità nel cuore. Se non sei sereno e nel tuo animo c'è inquietudine da diverso tempo cerchi un po' di serenità e non sai dove andare rivolgiti a Dio per mezzo di Cristo Gesù leggi la Bibbia riponi la tua fede nelle promesse di Dio e sperimenterai la Sua pace nel cuore. e sperimenterai